La domenica si è svolta la terza prova del campionato italiano a Tolve e sono molto soddisfatto di come sono andato perché sono partito subito forte, ho fatto un buonissimo primo giro, purtroppo nel secondo Enduro 3 ho fatto una piccola scivolata che mi ha fatto perdere qualche secondo, però sono veramente contento perché sono arrivato terzo di classe e decimo assoluto, credo sia una delle gare migliori che abbiamo fatto da quando faccio Enduro, quindi ringrazio tutto il team per il supporto perché stiamo veramente migliorando ogni gara e speriamo di continuare così e cercheremo di migliorare ancora. Enduro 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 Enduro